27 Dicembre Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti. Secondo Timoteo 2,8 Gesù non ci lascia. Sono le parole dell'anziano apostolo Paolo consapevole del poco tempo da vivere rimastogli. In maniera particolare avrebbero potuto sentire la sua mancanza. Proprio quei giovani servitori di Dio che tanto avevano imparato da Lui. Ecco il senso dell'esortazione. Timoteo, tra un po' non ci sarò più. Ma Gesù è sempre con te e ti darà intelligenza per sapere come ti devi comportare. Perciò ricordati di Lui. È Cristo il sommo pastore. È Lui il consigliere ammirabile. È Lui l'uomo santo da invocare. E nessun'altra figura religiosa. È Lui il Signore della Chiesa. Anche per noi è una necessità ricordarsi di chi è Gesù. È una gioia sapere chi è risorto e vivente. Egli è una risorsa vitale per noi. Possiamo parlargli, ascoltarlo. Le sollecitudini della vita vorrebbero oscurare il fatto più importante della storia. Ed è per questo che è importante ricordarsi di Cristo. Non per celebrare una data o un evento. Ma per vivere ogni giorno in comunione con Lui. Signore, grazie che mi fai realizzare quanto hai promesso. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente.